E' finita, va 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 va, regaliamo lo scudetto al Napoli, va 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 va, bravo Inzaghi, bravo, vediamo questa polizia, più che Brudio, non si gnocchia, non si gnocchia, dopo quella espulsione, la partita è finita, solo un pingone come Scrinia si poteva buttare fuori, solo un pingone come Scrinia, è quell'altro pingone di allenatore che deve far giocare le riserve della partita in bontà, cioè oggi non puoi più fare l'uca, io mi chiedo loro, non fare l'uca, 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 Scrinia con me, partendo, proprio un pingone, un pingone di allenatore, solo l'unico pingone ce l'abbiamo noi, vinci sempre la Supercoppa, è stata apposta tutto l'anno, il pingone, un pingone, un pingone di allenatore, stasera, non ti manda una speranza della mondo, prima stavo 10 per 5, ora c'è un 0 per 5, tanto basta che hai vinto con un milano a te che non frega a te, che pietà, che pietà, fanno pietà, fanno pietà, poi faici i cagli, sono buttati a 0, faici un cagli e sono buttati a 0, un becillo, cioè se lo ballano a 0 faici un cagli, con l'uca è cazzo di Purtino lì, faici un cagli di capra che ha fatto qui, con l'uca è cazzo di Purtino, non parlate di un'ora, non parlate di un'ora, mi raccomando, un'ora, 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 sotto l'aia, 5 minuti, fuori, siamo fuori, finito, sei finito 5 minuti devi fare 2 gol in 10 contro la partita per me è virtualmente finita come il campionato lo vedete voi sto campionato di merda ve lo vedete voi sto campionato di merda ve lo vedete voi sto campionato di merda schicoglioni di merda schicoglioni